buongiorno a tutti e benvenuti la seconda puntata del podcast cosa europa fa per me realizzato da sardegna goal in collaborazione con tdm 2000 international nell'abito del progetto europe for sardinia un progetto finalizzato a promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica dell'unione europea come regia c'è roberto di sì e oggi abbiamo il piacere di ospitare qui in studio antonio antonio mura dello europe direct della regione sardegna buongiorno a tutte e a tutti c'è antonio grazie per essere qui oggi grazie a voi per l'invito antonio raccontaci che cosa è europe direct e di cosa si occupa europe direct è una rete presente in tutti i 27 stati dell'unione europea è una rete che serve a portare l'europa più vicino ai cittadini nella nostra vita di tutti i giorni molto spesso non c'è chiaro cosa fa l'unione europea per noi quali sono le opportunità che l'unione europea ci offre come funziona per esempio il processo legislativo dell'unione europea o magari come possiamo sfruttare opportunità come l'erasmus o come i finanziamenti diretti sono tutte domande lecite che è difficile per cui è difficile trovare una fonte di informazione corretta noi serviamo proprio a questo a dare le risposte su queste domande che i cittadini possono avere e se non abbiamo le risposte a fornire indicazioni su dove le risposte si trovano su quali altri uffici possono aiutare i cittadini ad avere tutte le informazioni insomma siamo una rete generalista su cosa fa l'unione europea chi sono le persone che di solito bussona la vostra porta ci sono varie varie tipologie veramente da dallo studente delle superiori che vuole capire come come viaggiare in europa banalmente come ma anche come divertirsi andando in spagna con i propri amici e sapere se c'è qualche opportunità per questo andando sempre più avanti per l'età anche a pensionati che vogliono capire se è possibile passare nella terza età in un altro stato dell'unione europeo se ci sono delle opportunità anche per per quell'età quindi la tipologia di cittadini è veramente variegata quella che più però quella con cui più siamo a contatto è sicuramente una fascia che fa tra i 20 e 30 cioè quelli che magari stanno finendo il corso di studio hanno appena finito il corso di studi e vogliono iniziare un'attività lavorativa quella è forse la fascia di età che incontriamo più spesso quindi le informazioni sono principalmente relative all'opportunità di lavoro in altri si direi che l'argomento più richiesto è l'erasmus per giovani imprenditori per chi ci segue non lo sapesse è la possibilità di passare un periodo in un'azienda di nostro interesse in un altro paese dell'unione europea faccio un esempio io mi occupo di europrogettazione io per sei mesi posso lavorare pagato dall'unione europea in un'altra società di europrogettazione in uno dei 27 paesi dell'unione europea posso quindi capire come funziona un'attività di questo tipo e poi cercare di intraprendere questa attività nel mio paese quanti punti europe dalle ci sono in italia allora in europa parto dal macro sono 445 circa in italia 47 o 48 non ricordo nel nel micro dettaglio in serena siamo in due e uno quello dove ho la fortuna di lavorare io presso il centro regionale di programmazione della regione sardegna e l'altro presso il comune di nuoro quello il comune di nuoro è anche il più il più longevo perché già da da vent'anni da quando la rete è stata costituita comune di nuoro si è dotato di un'antenna europe d'arrette le reti europee sono diffusi in vari ambiti o tre vuoi se non ricordo mai ci sono anche erodesk la rete rete eures sì come dicevo prima noi come europe direct siamo la rete generalista siamo una sorta di pivot che serve poi a districare le informazioni nelle varie altre reti istituzionali che la commissione europea ha pensato su determinate tematiche la rete euro desk per la per la mobilità la rete eures per le opportunità di lavoro abbiamo poi la rete europe enterprise network per le imprese che insomma in sardegna sempre in regione gestita da sardegna ricerche quindi c'è una rete anche all'interno degli uffici regionali praticamente al piano di sopra rispetto a questo dove siamo adesso eures è gestita in sardegna anche dall'aspal e quindi tutto un sistema di informazioni che permette al cittadino di capire cosa fa l'unione europea abbiamo infatti per facilitare questo utile questo circolare di informazioni costituito una rete tra le reti di informazione per completezza dico che nella rete sono presenti anche i cdi e i centri di documentazione europea che forniscono informazioni sono strutturati in genere presso le università e forniscono informazioni agli studenti o agli appassionati per pubblicazioni scientifiche in ambito europeo quando si parla di europa e si fa spesso riferimento anche alle opportunità che offre l'unione europea ma che ovviamente non esoriscono ciò che è l'unione europea di solito ci si trova di fronte a due fatti specie opposte di ascoltatori da un lato c'è il l'ipercritico che vede nel l'unione europea e il l'incarnazione del male dall'altro invece c'è l'ero entusiasta che vede in europa opportunità a immediata disponibilità e che magari ingenuamente pensa che sia tutto molto sia un mondo al quale sia particolarmente semplice accedere ecco quanto è difficile per te che ti occupi effettivamente di trasmettere le formazioni il flusso di informazioni a livello locale riuscire a bilanciare e a avere a che fare con queste due differenti opposte tipologie di ascoltatori ma è il quello che cerco di fare io è sempre di ricondurre il tutto all'informazione stessa abbiamo fatto prima l'esempio dei rasmi per i giovani imprenditori e un ero un ero scettico potrebbe dire a tanto non serve a niente tanto la solita fregatura no ci si siede insieme all'ero scettico dice nessuno ti prescrive di fare questo programma però si cerca di spiegare come funziona e quali sono i potenziali vantaggi che che l'opportunità può avere per il cittadino tale per erasono per i giovani imprenditori ma vale un po per tutte le attività dell'unione europea sempre avendo la consapevolezza che non si deve convincere nessuno il nostro ruolo è semplicemente quello di far vedere che le opportunità ci sono e spiegarle nel modo più chiaro possibile e lo stesso vale per chi è troppo entusiasta magari il problema può essere di semplificare magari troppo troppe eventuali difficoltà che potrebbero porsi però intanto un entusiasta perlomeno si suppone che abbia più voglia di fare che comunque abbia anche la la volontà di superare eventuali step critici che si presenteranno certo è un riferimento che facevo rispetto al fatto che magari in particolar modo per programmi che si rivolgono associazioni o comitati magari di giovani il percorso viene rappresentato in maniera delle volte un po non dico edulcorata però nessun aspetti più semplici senza indulgere sulle criticità e questo poi la prova dei fatti può rappresentare un ostacolo per chi si cimenta in tale in tale percorso con tutto che effettivamente le opportunità ci sono sono tante e sono e sono importanti no su questo aggiungere una cosa ne ritengo sempre molto importante quando presentiamo un programma un'opportunità insomma qualsiasi tipo di di attività che fa l'unione europea cercare di presentarla con chi ha usufruito di questa opportunità perché questo rende il tutto più concreto e questo magari è un è un è un mezzo che ci permette anche di di avere un racconto oggettivo perché è inutile dire questo hai fatto bene a sottolinearlo che non si ottiene non si vince un mando europeo non si ottiene non si vince anche banalmente un erasmus senza prima aver ottenuto una media sufficiente all'università per fare un esempio sono tutti i percorsi che necessitano ovviamente impegno studio e capacità di lavoro e giustamente aggiungere io considerando che si tratta comunque di denaro pubblico quindi la spendita di questo denaro deve essere giustificata a monte dal valore di chilo dall'impegno soprattutto di chilo lo riceve per fare il suo il suo progetto chiaramente deve anche creare qui un valore su su quella spendita di denaro quindi deve far sì che chi usufruisce di un'opportunità di questo tipo poi insomma nesca perlomeno arricchito lui a livello di di conoscenze di capacità voi mettete in contatto il l'europa delle istituzioni centrali con con i territori da questo punto di vista quanto è importante collaborare con le istituzioni locali mi riferisco a comuni città metropolitane alcuni casi perfino perfino regioni è fondamentale è fondamentale anche perché a certi risultati ci si arriva solamente ovviamente con la collaborazione dei degli enti locali e una delle uno dei nostri mandati come europe d'arete sardini anche quello di arrivare in territori dove molto spesso di europa non si parla per fare questo se non si fa rete con enti locali o anche penso anche alla rete bel che è la rete di consiglieri locali che collaborano insieme a livello di unione europea proprio per portare l'europa nei territori se non si collabora con le associazioni se non si collaborano con le scuole se non si collabora con le scuole molto difficile arrivare nei territori e quindi sì certo il europe d'arete non può fare il proprio il proprio lavoro se prima non non crea una rete con istituzioni ma anche col mondo delle associazioni e col mondo della scuola altrimenti chiaramente il lavoro diventa fine a se stesso quali sono invece le difficoltà principali che trovate nel in questo lavoro di portare le informazioni sui territori la difficoltà e questa è una cosa che con mi fa piacere essere ospite di serenia goal e tdm con serenia goal e tdm collaboriamo da tanti anni e questa è una difficoltà che ci diciamo sempre la difficoltà è portare la voce dell'europa in chi per qualsiasi qualsivoglia motivo non vuol sentire questa voce cioè è molto facile lavorare con comuni scuole entusiaste e desiderose di capire come funziona l'integrazione europea piuttosto che come funziona il bando x più difficile arrivare in territori che non sono interessati a questi argomenti perché magari hanno altre priorità perché magari non ne vedono il l'utilità ecco è lì che che diventa importante lavorare ed è lì che è importante anche avere in un supporto da dall'alto a livello di parlamento europeo commissione europea i vari uffici perché insomma ci supportino in questo tipo di attività le elezioni per il rinnovo al parlamento europeo rappresentano un grande appuntamento di democrazia e partecipazione naturalmente affinché questo appuntamento sia questo grande appuntamento sia tale è necessario che visse la partecipazione di un congruo numero di elettori e che cosa ha fatto in questi anni la commissione europea per promuovere questa partecipazione ma la commissione europea il parlamento europeo insomma le istituzioni comunità è preciso hanno cercato di fare una serie di attività sia cercando di coinvolgere il mondo delle associazioni penso per esempio al bando del parlamento europeo per attività di comunicazione sulle elezioni che col progetto change makers tdm è riuscita a vincere o anche attività come quelle del del progetto che che ci ospita in questa in questa chiacchierata e penso a delle piattaforme digitali come together you è chiaro che arrivare una partecipazione elettorale veramente corposa come come ci si aspettava non è facile non si risolve in semplicemente con con queste attività queste attività chiaramente poi avranno un feedback e la commissione il parlamento noi stessi europe direct e ne traremo degli spunti per lavorare meglio nei prossimi cinque anni cercare di avere una maggiore partecipazione tra cinque anni e cercare sempre di di avere un trend in crescita però è anche importante che l'unione europea entri nei discorsi che si fanno nel dibattito politico locale e questo per la commissione europea magari un po più più difficile da realizzare da da fuori è chiaro che se nel dibattito sulle elezioni europee non entrano in gioco argomenti centrali per il futuro dell'europa come una politica fiscale una politica di difesa comune è chiaro che per i cittadini anche difficile capire quale qual è la specificità di questo appuntamento elettorale non il solito appuntamento elettorale tra partiti italiani certo certo che poi insomma senza voler dare un giudizio di merito su questa su quell'altra parte il signor europee in molti paesi incluso il nostro per la fine si risolvono una sorta di grande mega sondaggio istituzionale per verificare l'andamento della coalizione di governo dell'opposizione e le vari punti di equilibrio tra le forze tra le forze in campo è chiaramente il grado di partecipazione coinvolgimento nella vita politica europea è penalizzato anche da lo scarso livello di partecipazione coinvolgimento delle opinioni pubblica nella politica la politica to cure è questo è questo aspetto viene ulteriormente acuito se prendiamo in considerazione le nuove le nuove generazioni secondo te da operatore ma soprattutto da cittadino da persona interessata alla vita democratica della propria comunità inclusa l'unione europea che cosa si dovrebbe fare per cercare un po di ricostruire questo dialogo con le nuove generazioni al di là poi dell'uso di nuove tecnologie social e quant'altro è una domanda la domanda che mi fa molto difficile credo che se la stiano facendo un po un po tutti in questi giorni comprese le forze politiche che per prime avrebbero vantaggio ad avere la capacità di intercettare questo tipo di elettorato io nella mia esperienza sia di operatore ma di cittadino vedo che quando una cosa ci interessa la passione viene e quando è una cosa ci interessa quando la riputiamo utile a noi ecco mi permetto di interromperti perché poi si parla spesso di scarso interesse e scarsa partecipazione dei giovani in realtà poi se guardiamo la cronaca quotidiana non è assolutamente così ci sono tanti giovani che per esempio partecipano alle campagne di friday for future o ci sono tanti giovani che partecipano a questioni legate che ne so diritti lgbt insomma non è che manchi la partecipazione quello che manca forse è il collegamento tra queste persone che effettivamente vogliono fare qualcosa per la propria comunità secondo il proprio punto di vista che effettivamente dal loro punto di vista la fanno è la sfera deputata a tradurre quella volontà in in leggi in provvedimenti regolamenti la sfera istituzionale sì forse manca questo 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 rendersi conto che la loro passione il sdraiarsi per strada per bloccare il traffico per per questioni ambientali che adesso al di fuori di ogni giudizio di merito comunque denota un certo interesse una certa passione le varie manifestazioni che ci sono state di giovani per i diritti i diritti civili ma anche le manifestazioni che ci sono ogni anno le manifestazioni di studenti per il miglioramento della scuola per la protesta che a seconda del governo cambia poco ma ci sono sempre dimostrano che la passione c'è forse quello che servirebbe un collegamento un canale che riesca a convogliare questa energia in una voglia di protagonismo in un dibattito in un dibattito pubblico se vogliamo più istituzionale e più che cercare di andare nelle scuole cercare di fare attività di cittadinanza attiva e spiegare il ruolo che può avere concretamente il cittadino anche all'interno delle istituzioni attività che si fanno comunque nelle scuole io non so come il mondo delle associazioni uno europe d'aret possa agire forse servirebbero delle azioni politiche che restituiscano la fiducia del cittadino nel in un percorso di questo tipo però dico la verità non ho una risposta su su come si possa ottenere soprattutto non si può e su questo sono sicuro ottenere in nel giro di pochi mesi probabilmente almeno di pochi anni un percorso il corso nel lungo e nel lungo periodo di ricostruzione di costruzione di fiducia tra tra il cittadino e la sfera politica anche perché poi comunque e le organizzazioni come le strutture come la vostra che vanno operare sul territorio diventano poi l'interfaccia di chi magari si lamenta o chiaro si lamenta però è chiaro che non sei commissario europeo e no no poi certo banalmente per aumentare la partecipazione dei sardi al voto probabilmente avere una concreta possibilità matematica di essere di avere un sardo nel parlamento europeo questo sono sicuro che aiuterebbe chiaro abbiamo una legge elettorale a livello europeo o meglio abbiamo delle circoscrizioni italiane che danneggiano la sardegna nella nella ripartizione degli europarlamentari ecco partire da quello probabilmente sarebbe una soluzione di breve termine per aumentare un certo tipo di elettorato che vedrebbe nel voto europeo più possibilità ovviamente di di contare avendo un proprio europarlamentare o meglio avendo un europarlamentare del proprio territorio ecco sarebbe interessante e poi non escludo di farlo ecco alla fine della puntata verificare il dato di affluenza della provincia autonoma di bolzano allora con 350 mila elettori del collegio elettorale esprimono un euro deputato quello è quello è anche un modo sono sicuro che chi va a votare ha un'idea più concreta di quello che potrà fare il suo di come il proprio voto potrà essere sfruttato poi utilizzato per livello europeo certo certo è un'ultima domanda e che consiglio daresti tu a un giovane che oggi volesse aprirsi volesse accedere a questo mondo dell'opportunità europea consiglio in termini di sia di programma che di modalità per vivere nel miglior modo possibile nel modo più efficace possibile questo programma ma innanzitutto io gli consiglio proprio di farsi una chiacchierata con il suo europe direct più vicino perché europe direct ha le competenze per ecco ricordiamo dove siete giusto siamo la nostra sede istituzionale è presso il centro regionale di programmazione però ci potete trovare il suo appuntamento o alla mem la mediateca del mediterraneo ospiti del comune di cagliari o in manufattura tabacchi anche lì ospiti di sardegna ricerca una struttura gestita da sardegna ricerche anche lì abbiamo da da poco più di un anno una sede una bella struttura assolata dove si sta molto bene quindi si sono due belle strutture ed entrambe finanziate con fondi europei è una prova concreta che i fondi europei insomma servono a migliorare tra le varie cose migliorare anche le nostre città certo è una volta che vengono a trovare tu che consiglio daresti magari un ragazzo di 20 21 anni che volesse fare questa esperienza quale secondo te il programma più adatto in generale ecco ma di beh se uno volesse studiare 20 21 anni magari ancora all'interno dell'erasmus e quindi gli consiglierei di fare l'erasmus quello che in genere consiglio cercare di farne il più possibile quindi se all'università fai l'erasmus e va bene se non stai studiando c'è l'opportunità di fare il corpo europeo di solidarietà che è il vecchio sve per chi è grandicello come noi che il servizio di volontariato europeo permette di fare un anno di lavoro impegnati in attività quali diritti umani parità di genere e altre attività concernenti valori dell'unione europea che comunque permette di essere pagati e permette di imparare una professionalità in un argomento di interesse questo programma adesso permette anche di fare delle attività al di fuori dei confini europei in tutto il mondo quindi è veramente molto interessante e li consiglierei l'erasmus per giovani imprenditori se ha sia interesse ad aprire una propria attività così da potersi formare da un altro imprenditore in un altro paese dell'unione europea insomma ecco e magari li li direi in che ordine sarebbe possibile farli in modo che potesse farne il più possibile sulla base delle sue interesse è possibile programmare un percorso di crescita attraverso esperienze di mobilità attraverso vari esempio li consiglierei tdm per fare delle mobilità giovanili di un paio di settimane all'interno di progetti europei anche per iniziare ad avere più di mistichezza con con il viaggio con stare in un clima europeo con ragazzi di altri paesi sono l'attività che tdm le altre associazioni i giovani li fanno da questo punto di vista è utilissimo perché molto spesso voi tenete a battesimo e le prime esperienze di mobilità internazionale dei dei ragazzi si è un'attività importante lo scambio giovanile entri il livello del semplice internazionale il livello il livello base tre quarti di quelli che portano si fidanzano e poi non tornerò più si scherza naturalmente bene grazie antonio di essere venuta a trovarci grazie michele grazie a sarnia gole grazie tdm e grazie anche a roberto desi in regia a presto